Musica Goccia d'oro, quali caratteristiche ha? Un olio estratto da olive locali, noi siamo nel comune di Penne, in provincia di Pescara, a un'altitudine di circa 400 metri, ecco quest'olio ha una densità molto accentuata, è grezzo, è velato, non è lucido, non è trasparente, ha proprio l'aspetto di un olio fresco appena preparato, il segreto di questo olio parte dalle olive, che sono olive particolarmente curate dai nostri condadini, che non mettono assolutamente né anticriptocamici, né conservanti, né pesticidi, né niente, quindi questo è un biologico di fatto, è un olio, che questa è una medicina, perché c'è un alto contenuto di polifenoli, i polifenoli sono sostanze benefiche per la nostra salute, combattono i radicali liberi, combattono le cose cattive e fanno bene, sono digeribili, chi c'ha il colesterolo alto e mangia e usa questo olio di oliva con alto contenuto di polifenoli, stranamente il colesterolo gli si abbassa. Allora facciamo un brindisi con questo nettare di bontà e diciamo salute, perché bere olio pur che sia buono, fa bene e mantiene giovani. Prosit, saluta.